Le stazioni della lettura e questo è il titolo della prima edizione della fiera itinerante del libro organizzata da Edica, editori Campania Associati e da Circo Unvesuviana. L'appuntamento è per il 18 ed il 19 ottobre all'interno della stazione della Circo Unvesuviana del centro direzionale nella stazione di Piscinola di Metro Campania Nord-Est. In anteprima i visitatori potranno consultare le nuove proposte editoriali di Natale 2012. Avremo due momenti, il primo quello inaugurale che ci vedrà domani nella stazione della Circo Unvesuviana del centro direzionale, fare l'inaugurazione, quindi il classico taglio del nastro per la prima edizione. Mi fa piacere sottolineare questo aspetto, prima edizione, questo significa che ovviamente avremo in un futuro delle edizioni successive. Avremo poi un secondo giorno nella stazione di Metro Campania Nord-Est di Piscinola e la cosa che mi piace sottolineare è che entrambe le due giornate saranno caratterizzate non solo dalla presenza degli editori Campania Associati, ma anche da un denso programma culturale fatto di presentazioni di volumi e di incontri dibattiti. È anche un investimento culturale per la nostra società, per il domani della nostra società, è una società ovviamente moderna, evoluta, non può prescindere dalla preparazione dei propri ragazzi. Ampia disponibilità è stata offerta da Circo Unvesuviana e da Metro Campania, entrambe da sempre partner di eventi culturali. Credo che il viaggio in treno con il libro sia un connubio perfetto, credo che sia l'esperienza di ciascuno di noi, ma soprattutto Circo Unvesuviana ha una tradizione diciamo di appoggiare eventi che hanno aspetti di tipo culturale, tra penso quelli più noti a tutti il presepe in carrozza, che noi abbiamo seguito e abbiamo messo a disposizione degli organizzatori quello che potevamo in questo momento di difficoltà.